Voilà! Finalmente sono tornato! Vi chiederete cosa ho fatto tutto questo tempo? Tante cose, diciamo che non è che sono stato benissimo con la voce ho perso pure un po' di abitudine ad utilizzarla quindi insomma sono passati ben tre mesi, ho trovato lavoro eccetera quindi insomma tanti impegni, nel frattempo i capelli cioè proprio ormai zero, zero assoluto ma non il gruppo e con cosa rientro? Con cosa rientro ho pensato di cantare un brano scritto da Tony del Monaco e Jimmy Fontana quindi abbastanza datato e portato al successo da Mina nel 1965 si sto leggendo, tanto lo sapete sono gli amanti delle notizie di Wikipedia che tanto so che mi seguono costantemente soprattutto Miki e niente, questo brano è stato riportato al successo ultimamente grazie a Francesco Renga perché è stato il primo estratto di orchestra e voce il testo, il testo di cosa parla? il testo è un po' triste perché parla di un amore ormai finito in cui il protagonista o la protagonista, insomma dipende da chi la canta decide di rinunciare a quell'amore e di perdere anche l'ultima occasione di tornare insieme perché non pensa di meritarla quindi niente, vi lascio alla canzone e al video rubato sempre da YouTube e spero che vi piaccia l'ultima occasione un baso una come te io non la troverò mai più una come te ma non posso più chiederti tempo per cambiare perché sarebbe inutile sarebbe solo per pietà e io non voglio più e io non voglio più pretendere le cose che non merito da te e perderò così anche quest'ultima occasione che mi dai e sarà tardi quando cercherò di te ma non posso più chiederti tempo per cambiare perché perché sarebbe inutile sarebbe solo per pietà ed io non voglio più pretendere le cose che non merito da te e e perderò così anche quest'ultima occasione che mi dai e sarà tardi quando cercherò di te di te di te di te di te di te e e perderò così anche anche quest'ultima occasione che mi dai che mi dai mi dai e di te 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 e sarà tardi che mi dai di te di te Grazie a tutti.